Ma è sicuro fare nella stessa occasione la quarta dose del vaccino anti-Covid e l'anti-influenzale? La risposta definitiva è stata data dal Ministero della Salute ed è sì. Questo tenuto conto delle attuali indicazioni espresse dalle principali autorità di sanità pubblica internazionali e relativi ai comitati consultivi dei dati preliminari relativi alla cosomministrazione dei vaccini anti-SARS-CoV-2 con i vaccini anti-influenzali. Una risposta definitiva attesa da molti abruzzesi dopo il Via Libera alla doppia vaccinazione che regione ufficialmente partita lo scorso 10 ottobre. Sì, oramai la macchina è partita e si stanno già somministrando il doppio vaccino e devo dire con numeri anche soddisfacenti perché tranne una prima fase che è un po' astentato a partire poi adesso è decollata e devo dire che i vaccini anti-influenzali se ne fanno molti anche agli hub vaccinali insieme alla dose booster, sia essa terza o quarta dose. Per cui insomma si va avanti, questa è oramai un'indicazione che già le ASL per quanto riguarda l'Abruzzo hanno fatto propria e si sta lavorando e devo dire, ripeto, con numeri che ogni giorno crescono. Sarà possibile a stretto giro anche nella nostra regione la somministrazione della quinta dose di vaccino contro il Covid raccomandata agli over 80 ai fragili ma sarà disponibile anche per gli over 60 su richiesta. Per la somministrazione però dovranno essere passati 120 giorni dall'ultimo booster o dalla malattia. Di oggi la notizia perché anche qui ci attrezzeremo a strettissimo giro e partiremo anche con questa quinta dose. Insomma mi sembra che la vaccinazione ormai è entrata in quelle che sono le vaccinazioni diciamo di routine così come l'anti-influenzale sarà anche quella per il Covid in futuro con risultati soddisfacenti perché seppure la pressione a livello di positività è in aumento però poi di fatto sugli ospedali non c'è questa ricaduta e così neanche sulle rianimazioni perché i numeri sono davvero molto bassi se non diciamo ridotti a qualche unità. Non serve la prenotazione? Assolutamente no, l'Abruzzo è una scelta dell'assessore Veri che io ovviamente ho condiviso con l'assessore quella di vaccinarsi senza prenotazione. Oggi non c'è più necessità, quando c'è questa necessità abbiamo lavorato con la prenotazione, con poste ma oggi mi sembra che dare la possibilità al cittadino di venire a vaccinarsi quando a tempo credo che sia una scelta giusta.